27 dicembre 1894, muore Francesco II di Borbone. Figlio di Ferdinando II e di Maria Cristina di Casa Savoia, Francesco II è re delle due Sicilie per meno di un anno, dal 22 maggio del 1859 al 13 febbraio 1861, giorno in cui, avvenuta alla resa della fortezza di Gaeta, si dichiara ufficialmente la fine del regno. Francesco II era stato autore, durante il suo breve regno, di alcune concessioni e riforme nell'ambito della giustizia, della tassazione, dell'agricoltura.